Ubi Banca ha deciso di estendere il plafond da 5 milioni di euro per favorire il ripristino dei danni subiti da imprese e famiglie in seguito alle recenti ondate di maltempo che hanno colpito in particolar modo Arezzo e provincia. Il plafond è destinato a finanziare le spese di ricostruzione e ripristino degli immobili e dei beni strumentali all'attività e a concedere l'elasticità di cassa venuta meno a seguito degli eventi calamitosi. In particolare può essere utilizzato mediante operazioni chirografarie a medio e lungo termine con durata massima di 5 anni e riduzione delle spese di istruttoria pari ad almeno il 30% del listino e operazioni a breve termine anche per smobilizzo crediti con condizioni agevolate. L'intervento della nostra banca, afferma Cristian Fumagalli, responsabile della macroarea di Ubi Banca, intende offrire concreto supporto per il superamento delle difficoltà e dei disagi causati dalle calamità naturali che si sono abbattute su questo territorio ed in particolar modo ad Arezzo, città che ci sta particolarmente a cuore.